Vorrei cominciare prendendo a prestito le parole di George Calat, che è l'editor di una rivista che si chiama Elements, che è considerata al momento una delle cose più utili che la comunità mineralogica e geochimica ha inventato, cioè una rivista che mette assieme tanti punti di vista focalizzandosi su un determinato argomento per ogni fascicolo che esce. George Calat è l'editor attuale di questa rivista, appena finito il suo mandato, e dice che le scienze della Terra mirano a capire il passato e il presente del nostro pianeta usando tutti i collegamenti e tutte le osservazioni che noi possiamo osservare e quantificare. E che i nuovi sviluppi che ci sono stati in tutte le tecniche, nelle nostre teorie, stanno portando a una progressiva convergenza della mineralogia, della petrologia, della geochimica, al punto che a questo punto non è veramente più tanto facile discernere che cos'è mineralogia, cos'è geochimica e cos'è petrologia. Una visione molto integrata, che tiene conto di approcci veramente integrati e multiculturali. Comunque alla scala del cristallo e anche sotto parliamo tutti dallo stesso oggetto, sebbene ne parliamo da diversi punti di vista. E così, osservando e cercando di avere dei dati sperimentali su un cristallo, impariamo comunque quello che è avvenuto centinaia di milioni di anni fa. È un po' come faceva Diogene, o come diceva di fare Diogene nel suo barile, nella sua botte. Quando osservava il genere umano, rifletteva su come poteva collegare l'uomo con la natura in uno spazio molto piccolo e molto limitato, che era quello a sua disposizione, senza fare osservazioni scientifiche. In una certa maniera noi non esitiamo a spendere un sacco di tempo, come avete visto anche delle relazioni precedenti, per studiare in tutti i suoi dettagli un piccolo cristallo e per poterlo utilizzare per avere una conoscenza molto più profonda e molto più perfetta dei processi geologici. Come definiamo un minerale? A questo punto andiamo veloci, perché l'avete già visti tanti. Quindi sono materiali solidi, si sono formati in natura attraverso processi inorganici. Su questa cosa adesso si comincia a discutere, perché l'interazione tra organico e inorganico sta prendendo sempre più piede e ne conosciamo sempre di più. Comunque sono i minerali che formano la parte solida della terra e di tutti i corpi extraterrestri. Come li possiamo definire? Sono delle sostanze che hanno delle proprietà fisiche omogenee, hanno una formula unitaria particolare e una struttura particolare, un arrangiamento atomico, quindi una struttura particolare. Possono essere grossi, enormi, come questi cristalli di Naica. Possono essere grossi come palline da golf, come questo cristallo che è stato trovato caratterizzato di recente. Questo è un cristallo singolo di oro, che pesa mi pare 218 grammi e quindi vale un milione e mezzo di dollari, che è stato riconosciuto come cristallo singolo attraverso un'analisi fatta con i neutroni, perché è molto grosso, è grosso come una pallina da golf. La forma non sembra quella di un cristallo, ho messo lì altri record men dei cristalli di oro per vedere che esistono anche cristalli con morfologie cristalline, ma sono cristalli singoli. Però la maggior parte dei cristalli con cui abbiamo che fare nelle scienze della Terra sono una cosa molto diversa, sono delle rocce un pochino squallido all'apparenza, che se le vediamo in sezione sottile sono fatte più o meno in questa maniera. Cioè sono degli aggregati di sostanze diverse, diciamo, se siamo fortunati, a scala minimetrica, se no a scala inferiore. Dire che ogni minerale ha una struttura, una composizione peculiare tipica non vuol dire che questa struttura, questa composizione siano semplici. Infatti dal punto di vista della struttura vi ho messo qui uno dei più semplici minerali, che è quello del granato e della famiglia dei granati, che comunque hanno struttura abbastanza complessa. Ci sono minerali che hanno strutture più complesse, sono le anfiboli che citava prima Giovanni Ferraris, su cui io lavoro primariamente, di cui quindi vi parlerò ancora di più. Ci sono minerali estremamente complessi, questo non è più il record mondiale, è il numero due, mi pare, al momento, la fantapielite, che tra l'altro è un minerali a cui struttura ha risolto Fernando Camara qualche anno fa. Non vi ho messo la formula perché chiaramente capirete che è una specie di incubo. Per la stessa cosa sono complicati per la composizione. Fernando prima citava il fenomeno dell'isomorfismo, il che significa che ogni minerale che noi abbiamo raramente ha una composizione semplice, cioè in ogni sito strutturale raramente c'è un unico catione, un unico agnone. In realtà sono delle soluzioni solide molto complesse. Nel caso degli anfiboli queste soluzioni sono così complesse che possiamo parlare di metà del sistema periodico che può entrare in un cristallo e quindi dobbiamo cercare di capire davvero non solo che cosa c'è, in questo ci aiuta anche la chimica ovviamente, ma come si distribuisce. Perché come si distribuisce, cioè come un cartione si ripartisce tra un sito strutturale e l'altro, è un chiarissimo indicatore della sua storia geologica e quindi questo ci interessa. E per questo che prima in una provocatoria domanda, osservazione alla relazione di Carlo Lamberti, avevo detto che il raffinamento è una sofisticatissima tecnica analitica in realtà ed è capacissimo, in certi contesti ovviamente, di distinguere tra elementi che differiscono tra loro soltanto di un elettrone. oltretutto i minerali sono anche molto interessanti perché contengono a livello di tracce gli elementi in tracce che i geochimici considerano come gli indicatori fondamentali del processo geologico, cioè c'è tutta una branca di disciplina che utilizza questi elementi in tracce, quindi sto parlando di PPM per essere precisi, che è come indicatore di processo geologico e anche questo è importante vedere che fine fanno. Soprattutto i minerali sono i protagonisti dei processi geologici, questo tipo di figure le avete già viste nè volte, non le commento più, soltanto per dire che la crosta della terra e anche il mantello poi se vogliamo non è una cosa ferma, è una cosa in movimento. Ci sono delle dorsali oceaniche che si aprono, quindi del materiale che viene su dal mantello, ci sono delle zone cosiddette di subduzione, queste qua che avete già visto prima, dove il materiale va verso il mantello, trascinandosi dietro acqua o non acqua, questo poi è un discorso di cui torneremo con le ringudite. E queste cose le vediamo dalla cristallo chimica e le vediamo dalle osservazioni tessiturali che sono una branca della petrologia. Sono le sezioni sottili, ve ne ho messe qui un paio per far vedere che un cristallo può essere immerso in un flusso che non è altro che un fuso che si è solidificato, in cui chiaramente il cristallo ha interagito, si può essere formato durante questa penetrazione del flusso in una roccia oppure può avere reagito con queste condizioni nuove che il fuso apportava alla roccia. O altre situazioni in cui invece c'è una stabilità per cui abbiamo degli insieme di cristalli in equilibrio, più o meno di equilibrio, magari più o meno zonati, le differenze di colore, vogliono dire anche delle differenze di composizione o di orientamento, e qui ne abbiamo un sacco di informazioni di questo tipo. Poi ci sono, questo è un elemento decorativo, delle situazioni invece carine che non hanno nessun significato geologico, ma sono semplicemente qui per farvi vedere come il mondo dei cristalli e delle sezioni sottili sia in realtà molto bello. Quello che dobbiamo ricordarci è che i minerali hanno un'eccellente memoria, cioè tutti i dettagli cristallo-chimici di un minerale corrispondono a una qualche condizione che questo minerale ha sperimentato nella sua storia. E questo è il motivo per cui i minerali sono così importanti, perché dei segnali, come ho detto prima, come un disordine di cationi, di un catione su siti strutturali differenti, hanno un chiarissimo significato petrogenetico, cioè fissano le condizioni di pressione e temperatura e di chimica in cui si sono formati o in cui hanno reagito i cristalli che noi stiamo osservando. E quindi le scienze mineralogiche, tornando a quanto detto prima, sono un esempio integrato di metodologie che studiano sistemi complessi. Li studiano in situ, cioè senza fare macinazioni, interventi che possono modificare la situazione, proprio perché per noi è estremamente importante conoscere questi dettagli spaziali, della distribuzione spaziale di cui vi ho parlato, studiando sia gli elementi maggiori che gli elementi in tracce. Quindi utilizziamo la cristallografia sicuramente, ma anche molti tipi di spetroscopie e più recentemente molti tipi di tecniche di imaging, che sono sempre più importanti nei nostri studi, per ottenere modelli del comportamento dei minerali durante i processi geologici, ma anche per preparare, ottimizzare dei materiali che sono proprio pensati per un uso che potrebbe essere tecnologico, che potrebbe avere una valenza del controllo ambientale. Allora, qual è il valore aggiunto della cristallografia? Il riconoscimento della fase, e questo l'avete già sentito mille volte, può avvenire, come si diceva, sia attraverso la morfologia nell'era pre-diffraction, sia attraverso lo studio della diffrazione. Il modello strutturale, potremmo dire, questo vale per tutte le scienze, non solo per la mineralogia, vedere per credere, e io direi anche vedere per capire. L'analisi cristallo-chimica, quello che vi ho detto prima, i destali della distribuzione degli vari elementi chimici, gli studi della densità elettronica, anche di questo vi hanno parlato, ma densità elettronica vuole anche dire caratteristiche di legame, il comportamento non ambientale, e di questo vi ha parlato diffusamente Fernando, e non lo citerò più. Tutte queste cose si possono fare perché nel tempo abbiamo accumulato degli importanti database, e questa è l'era dei database, e anche la mineralogia non è se adeguata, li aveva già, li stava costruendo fin dall'inizio, che ci permettono proprio di creare modelli del comportamento dei minerali in funzione delle condizioni di pressione e temperatura. E lo possiamo fare sia a livello di elementi maggiori, sia a livello di elementi in traccia. Questa, quasi l'assalto, perché l'avete vista in tutte le salse recentemente, volevo soltanto fissare un attimino il contributo della cristallografia alla comprensione di come è fatta la Terra, cioè le discontinuità di cui vi hanno parlato prima sono segnate da una transizione di fase tra olivina, wazleite, da peroschite a posperoschite, eccetera, eccetera. Quindi quelle che sono state identificate attraverso misure geofisiche sono da mettere in relazione con delle transizioni strutturali di particolari minerali. L'esempio delle ringvudite vi è stato già fatto, quindi non lo salto, soltanto per sottolineare che c'è anche un modello di questo tipo che dice che vuol dire che arriva molto più acqua di quanto si pensasse attraverso le zone di subduzione. Questa è un'altra delle teorie possibili per spiegare come mai c'è tanta acqua in quella zona del mantello. A Passan, credo la settimana scorsa c'era stato un grande congresso di mineralogia geochimica negli Stati Uniti, ha fatto molto clamore un modello di una squadra di americani che hanno modellizzato sulla base delle conoscenze dirette fuori dal fatto che c'era quell'1,5% di acqua nella ringvudite, hanno stimato un po' il volume dell'acqua che c'era sotto gli Stati Uniti dicendo che era molto di più di quella che c'era nell'oceano, cioè quello sotto il continente americano. Quindi stiamo parlando di cose importanti e rivoluzionarie e queste cose vengono fuori da verifiche sperimentali che poi magari sono anche piccole cose cristallografiche, cioè il contributo cristallografico è comunque rilevante. Vi faccio notare che la storia dell'identificazione della ringvudite è avvenuta attraverso la misura di quattro effetti di riflessione, da questo portando tutto il resto dei ragionamenti che abbiamo fatto. Lasciando la ringvudite, ricapitolando quello che già è stato detto prima, dove riusciamo ad arrivare noi con le nostre misure, col cristallo singolo arriviamo più o meno in questa zona, 84 gigapasca, l'ho visto delle ultime cose, il record mondiale, e con le polveri arriviamo più o meno in questa zona. Come si fa, ve ne hanno già detto, le celle di diamante riscaldate con un laser e per cui si ha anche in contemporanea la condizione di alta pressione e di alta temperatura. vado molto più veloce perché queste cose ve le hanno già raccontate. Allora, cosa possiamo ottenere con un raffinamento strutturale a cristallo singolo meglio, ma anche a polveri? I parametri di cella, il gruppo spaziale corretto e quindi con tutta l'informazione sulle transizioni di fase di cui abbiamo parlato, mappe di densità elettronica, posizioni atomiche e di conseguenza distanze interatomiche, i parametri displacement parameter che sono una misura del disordine posizionale e quindi che possono essere utilizzati per capire quando c'è una sostituzione chimica insolita che si vede attraverso uno parametro di spostamento più elevato oppure quando c'è un aumento di vibrazione termica come faceva vedere Fernando prima quando si fa una di trattamenti ad alta temperatura. Otteniamo però un'altra cosa che è molto importante, il site scattering power, cioè praticamente il numero atomico medio nel sito che noi stiamo analizzando e questo è un parametro fondamentale per ottenere quelle che si chiamano le site population, cioè la combinazione di elementi che entrano in un sito, ovviamente mediata all'interno del cristallo, perché è chiaro che in un singolo sito strutturale ci sarà soltanto un catione, ma siccome noi analizziamo un cristallo che ha tanti siti strutturali di quel tipo lì, noi analizziamo la composizione media in questa maniera. un'altra cosa importante è che questo numero che noi otteniamo, il site scattering power, non è un numero da calibrare, è un numero calibrato, perché siccome diversi siti strutturali sono invarianti chimicamente, noi abbiamo una specie di standard interna di riferimento, non abbiamo bisogno di standardizzazioni e questa è una cosa che vedremo essere di una certa rilevanza. Parlando un attimo di mappe di densità elettronica, da un altro punto di vista rispetto a quelle che sono state trattate stamattina, io vi volevo mostrare che l'analisi di una mappa di densità elettronica può dare delle informazioni molto importanti sulle ordinamenti locali e sull'eventuale incompatibilità di più sostituzioni in uno stesso sito. Questo è un esempio tratto da un gruppo di fosfati abbastanza infernali chimicamente, che, come vedete, danno posizioni splittate, che significa che due cationi diversi occupano posizioni levemente diverse, quindi noi possiamo distinguere se il sodio va qua, se il calcio va qua. E quello che vediamo è un indicatore chimico. Vediamo che qui c'è un ossigeno, qui c'è l'idrogeno, però se per caso nello stesso minerale entra il bario, allora vuol dire che c'è molto meno calcio, infatti questo massimo diminuisce e non ci può essere l'idrogeno, infatti questo non lo si vede più. E l'ossigeno si sposta verso il bario, quindi c'è un disordine posizionale. Quindi noi vediamo un sacco di dettagli che sono tutti riconducibili a sostituzioni chimiche. Il problema è che per capirli abbiamo bisogno di esaminare tanti campioni dello stesso tipo, oppure dobbiamo ricorrere a quei database di cui vi parlavo prima, che sono veramente uno strumento fondamentale. quindi il requisito fondamentale per usare il raffinamento strutturale come una tecnica analitica è avere un database attendibile e pertinente. E possiamo analizzare non solo, come dicevo con una battuta, silicio-alluminio, che si vedono benissimo nelle loro differenze, perché ad esempio nel caso degli anfiboli noi possiamo anche raffinare il fattore di scattering, cioè il numero di elettroni. Abbiamo comunque un'idea se sfora quello del numero del silicio tendenzialmente abbiamo un'indicazione che ci può essere o qualcosa di più pesante o qualcosa di più leggero. Ma che cosa c'è? Lo possiamo vedere dalle distanze medie, perché se noi abbiamo calibrato sulla stessa famiglia di minerali quanto vale quella distanza per le diverse composizioni, ci basta misurare la distanza e sappiamo la percentuale di silicio di alluminio che noi avremo in quel sito. E sapremo anche se è distribuita nel caso degli anfiboli ci sono due siti in cui questo può succedere, se è distribuita soltanto in uno o in due e sappiamo che se è in due questo ha un preciso significato sulla temperatura di formazione che implica un disordine, mentre invece se la temperatura è sufficientemente bassa l'alluminio si ordina in una sola posizione. Quindi non è solo un'informazione chimica, è un'informazione anche di processo. Ma questo lo possiamo farlo anche per gli elementi molto leggeri che hanno pochi elettroni e quindi uno direbbe vabbè non sono visibili con i raggi X perché cosa ne ce ne facciamo di due o tre elettroni? E' dentro l'errore sperimentale. Invece no. Per questi elementi leggeri la tecnica attualmente disponibile è la spettrospettria di massa a ioni secondari che è una tecnica molto precisa ma utilizza un'apparecchiatura molto costosa, ha necessità di tempi lunghissimi e ha necessità di calibrazioni lunghissime che sono estremamente sensibili alla matrice. Quindi non basta fare una calibrazione con una certa quantità di ferro per dire, ma bisogna usare la stessa matrice di minerale e calibrare il ferro su quella matrice. Se poi noi facciamo dei paragoni vediamo che c'è un... i dati del raffinamento ai dati di SIMS concordano perfettamente quindi noi con un raffinamento strutturale in una data famiglia di minerali possiamo benissimo stimare la quantità di beriglio in questo caso nelle corne rupine che sono minerali complicati ma anche molto belli come potete vedere sono gemme oppure possiamo stimare il litio nei confronti di magnesio, ferro o anche del sodio negli anfiboli. E possiamo anche stimare la quantità di idrogeno. Con l'idrogeno abbiamo un elettrone quindi un elettrone totale come occupanza del sito. In realtà noi riusciamo a renderci conto se è un po' meno di un elettrone o un elettrone però chiaramente non è una proprio... un'informazione precisissima quella che possiamo fare all'interno della delezione standard del metodo però noi abbiamo degli altri modi per capire quanto idrogeno c'è perché l'idrogeno non è che entra o desca da solo in un minerale entra o desce in relazione a un tipo di reazione ossidoriduttiva che avviene nel minerale che può essere attraverso due meccanismi ad esempio nel caso degli anfiboli può sostituire ferro magnesio che si ossedano e quindi l'OH va via l'idrogeno e rimane soltanto l'ossigeno oppure può esserci un'entrata di titanio cioè il risultato è lo stesso ma i meccanismi sono diversi tutto questo la sostituzione o l'ossidazione hanno degli effetti sterici sul sito che noi possiamo misurare e possiamo calibrare possiamo fare delle curve di regressione che ci dicono per le diverse composizioni ad esempio in questo caso di anfiboli quale curva dobbiamo usare per stimare quanto idrogeno abbiamo e quindi questo è già un bel risultato misuriamo con una buona precisione l'idrogeno attraverso una distanza intercationica però possiamo anche stabilire qual è il meccanismo con cui l'idrogeno se n'è andato perché vediamo che se è un'ossidazione del ferro noi osserviamo una particolare deformazione di un sito strutturale che si vede molto bene se riguarda questa cosa questo parametro di deformazione quando si alza vuol dire che c'è ferro 3 se no è titanio quindi noi non solo stimiamo la quantità di idrogeno ma stimiamo anche il meccanismo per cui se n'è andato quindi abbiamo questi processi di deprotonazione che tra l'altro sono molto importanti perché potete immaginare chiaramente ad esempio gli anfiboli vanno giù in una zona di subduzione aumenta la temperatura perdono il protone e tra l'altro contribuiscono anche alla formazione di acqua che va giù verso il mantello però questi processi di deprotonazione non sono neutri nei confronti della sostanza vediamo che ci sono delle grossissime variazioni nei parametri di cella banalmente misurando i parametri di cella senza fare il raffinamento quindi noi ci accorgiamo perfettamente a che temperatura avviene questo processo e non vi sto a far vedere ma in funzione delle diverse composizioni del minerale le temperature sono estremamente diverse e questo ha sicuramente delle implicazioni sui modelli geologici quindi possiamo fissare possiamo vedere tranquillamente se ci sono se i comportamenti sono ideali se non sono ideali ci sono delle flessioni e questo avrà un motivo dal punto di vista strutturale e un influsso sul meccanismo possiamo vedere quanto succede possiamo vedere anche la cinetica anche questo ve l'ha fatto già vedere Fernando quindi vado avanti però facendo il raffinamento possiamo anche vedere come si muovono come cambiano i numeri atomici medi dei vari siti e quindi qual è lo scambio cationico che avviene in concomitanza con il riscaldamento e col processo di deprotonazione e possiamo seguire questo l'avete comunque anche già visto come cambiano le singole distanze catione ossigeno in ogni sito strutturale quindi avere un'idea perfetta fingerprint di quello che succede nella sostanza quindi tutto questo ci porta a una conoscenza molto migliore della nostra terra per quanto riguarda è importante avere delle composizioni accurate delle site partitioning accurate mettere in relazione con le condizioni di pressimazione possiamo stimare dei elementi che sono elusivi le condizioni ossidative i cambiamenti di pt durante i processi geologici possiamo anche stimare i parametri termodinamici vi hanno già parlato di delta V di strain di bulk moduli quindi non un esempio soltanto per far vedere che possiamo anche studiare dei processi di incorporamento di rilascio ad esempio se noi pigliamo una delle zeoliti di cui tanti vi hanno parlato in questa giornata e proviamo a metterli insieme a una molecola organica in questo caso un antibiotico possiamo vedere il complesso che si forma studiarlo quindi sapere come si è fissato l'antibiotico se è fissato in maniera stabile o no possiamo provare a vedere che cosa cambia nella struttura a volte cambia addirittura il gruppo spaziale certamente cambiano le dimensioni della cavità in cui si è fissato questo antibiotico possiamo provare a fare il processo di release studiarlo e vedere cosa succede controllare ad esempio che si riforma il vecchio gruppo spaziale originario che si ritorna alle vecchie dimensioni della cavità originaria quindi studiare anche se questo release è totale parziale quindi se l'utilizzo di questo materiale è reversibile o non è reversibile e perché ho usato questo esempio perché questo esempio ha una grossa valenza sanitaria ed ambientale perché il problema dell'inquinamento di molecole organiche è un problema molto grosso che è uno dei maggiori che stiamo attualmente fronteggiando soprattutto nelle acque e soprattutto perché ogni allevamento anche di pesce o di suini così implica un abuso di antibiotici e anche le cure delle malattie umane oramai quindi questo è un problema grosso ma questo vale per tutto cioè noi possiamo studiare incorporamento e rilascio di qualsiasi sostanza in fasi mineralogiche di questo tipo o di altri tipi e cercare di ottimizzare questi processi per il fine tecnologico ambientale potrebbe essere anche una catalisi che noi vogliamo ottimizzare in quel momento passiamo alle tracce vi avevo promesso qualcosa sulle tracce e diciamo che la buona conoscenza dei modelli del partizionamento di elementi tracce tra minerali e fluidi sono veramente un prerequisito per la moderna petrologia e specialmente nei sistemi ignei e gammatici e noi possiamo studiare sia minerali che ci sono in natura sia minerali che abbiamo sintetizzato a condizioni notte di pressione temperatura e chimica e in genere i geochimici usano dei coefficienti di partizionamento che variano moltissimo questi sono normalizzati sulle condriti mi hanno già parlato delle condriti quindi che vengono dai pariti noi normalizziamo tutto alla condrite in modo da poter vedere quali sono le differenze nella differenziazione della terra nella crosta abbiamo un certo tipo di comportamento per gli elementi in tracce nel mantello abbiamo un altro tipo di comportamento in altre zone particolari che sono di interesse molto grosso per la geologia e per la petrologia abbiamo tipi ancora diversi morale gli elementi in tracce sono dei segnali indicatori della genesi di un determinato minerale allora quindi è importantissimo trattarli in maniera corretta dipendono abbiamo visto che dipendono molto dalla temperatura della pressione di incorporazione questo lo sappiamo anche dagli esperimenti di sintesi e anche dalla composizione del fuso ma anche dalla struttura e dalla composizione dei minerali questa è una cosa un pochino meno nauta perché fino a pochi anni fa si riteneva che in una determinata categoria di minerali i meccanismi di incorporazione fossero diversi ma la visione è completamente cambiata quando sono stati fatti alcuni studi cristallografici in particolare comunque la capacità di incorporare gli elementi in tracce dipende sempre dal fatto che ci sia un sito strutturale di dimensioni opportune di dimensioni opportune per incamerare il catione e che abbia i necessari meccanismi cristallochimici per ottenere un bilanciamento locale di carica perché la condizione prima perché un mirale sia stabile è che ci sia una neutralità elettrica e questo solo per farvi vedere che sperimentalmente in due composizioni diverse di anfiboli quelli che hanno nel sito M4 solo calcio oppure che hanno sodio e calcio i comportamenti degli elementi in traccio sono comunque molto diversi e il modo in cui era stato interpretato questo comportamento fino a pochi anni fa era quello dei modelli dell'elastic lattice strain models cioè praticamente pensavano al sito strutturale come una chiamiamolo come una molla cioè più il catione aveva carica sicuramente ma dimensioni opportune per la dimensione di quel sito più facile era che entrasse più il catione si scostava dalle dimensioni più difficile era che entrasse quindi i d venivano ottimizzati su una parabola che aveva come scissa il raggio del catione ottimale cioè quello che aveva le dimensioni corrette come apice il suo coefficiente di partizionamento e come larghezza della paramoda diciamo il bulk modulus cioè la difficoltà a incorporare quell'elemento più stretta è la parabola più difficile più critica è l'incorporazione di un catione più grosso o più piccolo e negli anfiboli come ha detto prima si pensava che tutto funzionasse senza distinzione di composizione però si vedevano delle cose un pochino assurde di questo tipo uno poteva fare una parabola con i d che c'erano però ad esempio si vedeva che quando le cose andavano bene queste comunque non erano centrate sul raggio del calcio se il calcio era l'elemento principale e se le cose andavano un pochino meno bene o assolutamente male non si riusciva a capire perché questo succedesse quindi chiaramente il modello dell'elastic strain banalmente così non era sbagliato non era applicato in maniera corretta la chiave di volta di questa cosa è vedere come la cristallo chimica sa benissimo che non c'è un unico sito M4 c'è un sito M4 dove vanno calcio e sodio e c'è un sito diverso che chiamiamo M4 I dove vanno i cationi più piccoli ferro e magnesio se noi applichiamo questa idea agli osservati del coefficiente di ripartizione vediamo che va tutto bene perché se noi possiamo usare due siti otteniamo due parabole si ho finito Giovanni otteniamo due parabole che vedi caso si centrano proprio sugli elementi giusti e questo nel caso più facile delle pargasiti che hanno soltanto calcio se pigliamo gli anfiboli che avevo fatto vedere prima che hanno calcio e sodio allora otteniamo due parabole che sono nettamente separate e vediamo che le cose vanno in maniera completamente diversa cioè in questo sito M4 ci vanno soltanto gli elementi grossi mentre gli elementi le terre rare con i raggi più piccoli vanno nel sito teedrico e quindi il loro meccanismo di incorporazione non è più lo stesso di prima ma è uno che tra l'altro si deve legare ad altri cationi trivalenti come lo scandio e il vanadio che hanno tutta un'altra indicatrice tutta un'altra potenzialità a livello di processo geologico allora cosa succede che quindi questi meccanismi di incorporazione cambiano significativamente i balpodoli perché le parabole sono significativamente diverse e cambiano i meccanismi di incorporazione anche con la chimica nel caso dei granati ad esempio lo scandio può essere incorporato in un sito se siamo in un particolare gruppo di granati o in un altro se siamo in particolare in un altro gruppo di granati tutto dipende dalle dimensioni relative dei siti che prima non erano state prese in considerazione e quindi abbiamo dovuto verificare le nostre assunzioni sia sulla dimensioni dei siti dei minerali e questo è un lavoro che è stato fatto integrando SAFS guardo con Carlo Lamberti con raggi X dimostrando che in effetti le terre rare non hanno un raggio costante all'interno dello stessa fase minerale ma il loro raggio ionico cambia in funzione della composizione globale del minerale e abbiamo fatto anche delle ipotesi diverse sui raggi ionici con questo chiudo è un ultimo lavoro veramente incredibile che abbiamo fatto neobi e tantaglio venivano considerati come elementi assolutamente coincidenti con lo stesso raggio ionico però noi ci siamo accorti che c'era una correlazione molto chiara tra i coefficienti di partizionamento di neobi e tantaglio e le dimensioni di un sito strutturale in cui si pensava si incorporassero il che significa che se c'è una selettività vuol dire che i raggi ionici non sono uguali devono essere necessariamente diversi quindi è caduta proprio uno dei postulati non solo della geochimica ma anche della tabella dei raggi ionici da Goldsmith in poi a questo punto ve l'ho raccontato questo è quello che volevo le parole che avevo usato in questo slide ma che ho detto io sono state dette da uno dei santoni della geochimica delle tracce e Barney Wood che ancora adesso è un santone che non voleva credere che la cristallografia potesse cambiare le sue interpretazioni geochimiche o che potesse giovarsi che la geochimica potesse giovarsi all'informazione cristallografica ma alla fine dopo dieci anni di dati e di convincimenti ha scritto che questo ritrovamento ha un'implicazione importante per capire l'origine tra l'altro anche dei bassi valori del rapporto niobio-tantaglio nella crosta continentale più antica che è una delle cose che i geochimici ancora non riuscivano a spiegare questo per dirvi che anche la cristallografia nel suo piccolo nel senso che nella sua visione molto piccola nella visione atomica può dare degli attributi veramente fondamentali quindi ringrazio tutti i colleghi che mi hanno preceduto che ho sfruttato tutti i colleghi che ho sfruttato citando il loro lavoro tutti voi per la vostra attenzione che siete rimasti qui fino a questo momento però volevo chiudere con un'ultimissima cosa che fa anche un po' di chiusura con un ringraziamento a questo ragazzo l'avete già visto sapete già chi è comunque lui a 22 anni non ancora laureato ha trovato questa relazione base che ha permesso di utilizzare la diffrazione a raggi X e non solo ha fatto questo ma ha cominciato subito e l'avete già sentito questo stamattina a prendere in esame un sacco di categorie tipo gli allogenuri cloruro di sodio e a dire che non erano molecole è stato preso in giro per anni per questa cosa qua perché nessuno ci credeva diceva che era una cosa impossibile e dopodiché ha cominciato a guardare diamante grafite ve l'ha detto la Bacchi stamattina e ha messo in relazione la struttura con le proprietà ma non si è fermato qua perché ha cominciato subito diventato un po' più grande ovviamente a incitare tutti i suoi allievi ad affrontare problemi molto più complessi come quelli della penicillina di cui ha parlato la Bacchi stamattina come quello delle proteine siamo arrivati a Watson e Crick questa è la scuola inglese della cristallografia quindi veramente molto lo dobbiamo a lui perché forse è il primo che ha capito le relazioni tra struttura e proprietà bene grazie a tutti grazie 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 grazie